In Abruzzo dal 9 aprile la prenotazione dei vaccini anti-covid può essere fatta utilizzando la piattaforma online di poste italiane e per chi non sa usare internet è possibile prenotare tramite i portalettere. Non solo prenotazioni agli sportelli postamat, sms o l'apposito numero verde, ma per aiutare soprattutto gli anziani che hanno difficoltà, anche i portalettere sono in prima linea. Antonella Serio, responsabile del centro di distribuzione di poste italiane di Pescara, spiega che sono numerosi gli utenti che hanno deciso di usufruire di questo servizio totalmente gratuito. La prenotazione dei vaccini tramite Palmare in dotazione al portalettere è una modalità molto semplice che consente soprattutto alle persone che sono poco tecnologiche di usufruire di un servizio assolutamente gratuito. Basta avere a portata di mano il codice fiscale e la tessera sanitaria e può scegliere sito e data dove effettuare poi il vaccino. A questo punto viene stampato un QR code che viene dato all'utente che verrà poi richiamato dal sito per confermare la prenotazione. In Abruzzo sono operativi 630 portalettere di cui 150 in tutta la provincia di Pescara e 62 nel centro di distribuzione di via Volta a Pescara e tra loro c'è Donato Sciamanna. In prevalenza da chi viene contattato? Noi siccome siamo capillari sul territorio veniamo contattati da qualsiasi fascia di età, diciamo dai quarantenni agli ottantenni, ultraottantenni, però abbiamo disposizioni adesso tramite il nostro ufficio possiamo solo e esclusivamente prenotare dagli over 60 fino ai 70-79 anni. Gli 80 vengono già classificati dall'ASL. Perché ha scelto questa modalità di prenotazione? La modalità è comoda, è venuto a consegnarmi la posta, io per non andare in qualsiasi ufficio, bussare, sapere, ho chiesto a lui, ho sentito in televisione sui giornali che si poteva fare tramite poste e quindi alla prima occasione che ho incontrato Donato, ho detto che si può fare e lui mi ha risposto di sì. Per me è comodissima.